Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Tre punti per scacciare le paure ed invertire la rotta. Per l'Avezzano è già una partita importante. Nel turno infrasettimanale del girone F di Serie D, al Dei Marzi arriva il Castelfidardo per cancellare la beffa di Giulianova e lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica. La sfida, tutta bianco-verde, può già scrivere un nuovo inizio. Turnover per Mr. Giampaolo che barra la baby difesa con Schirone, Puglielli e Di Gian Felice e lascia a riposo Capitan Man. Sulla tre quarti c'è Jonathan Alessandro con Cerone e Pellecchia a supporto di Dos Santos. Tra i pali esordio da titolare per Franca Bandiera. Dopo due minuti di gioco è dell'Avezzano la prima occasione, con Pellecchia che calcia dal limite e trova la deviazione della difesa avversaria. Cinque minuti più tardi, Rivi per poco non impensierisce Franca Bandiera con un tiro da fuori aria. L'Avezzano fatica a costruire il gioco, ma al quattordicesimo va in vantaggio grazie ad un gran sinistro di Michele Bisegna che si insacca sotto l'incrocio. Al ventunesimo però, un buco della difesa biancoverde spalanca le porte a Calabrese che di destro confia la rete. 1-1 meritato per i marchigiani. Al trentaduesimo l'Avezzano prova a reagire, ma il tapin di Cerone è respinto dal palo alla sinistra di Bottaluscio. Dodici minuti più tardi è ancora il capitano biancoverde di giornata ad impensierire l'estremo difensore ospite che se la cava in due tempi. Squadra a riposo sul risultato di 1-1. Nella ripresa Giampaolo lascia negli spogliatoi Schirone e manda in campo Besana. I marchigiani iniziano a fraseggiare con qualità e al quinto minuto trovano il vantaggio con un gran sinistro da fuori di Federico Cerone che bacia la traversa e va ad inzaccarsi alle spalle di Bottaluscio. All'undicesimo Dos Santos fiora il tris, ma il portiere ospite è bravo a disinnescare il calcio di punizione del brasiliano. Al sedicesimo si vede il Castelfidardo con il tiro di Trillini che va fuori di poco. Tre minuti più tardi Bisegna e Illumina per Dos Santos che con un pallonetto millimetrico supera Bottaluscio per il tris dei marzicani. Poker de Biancoverdi che arriva al ventiduesimo grazie ad un calcio di punizione di Federico Cerone che trova l'angolino alla sinistra del portiere ospite. Al dei marzi l'atmosfera si fa più distesa e Giampaolo fa esordire Conti e Dosa per Cerone e Bisegna. Mister Pazzaia corre ai ripari inserendo Pigini, Grazioso, Masso e Mialov per Lombardo, Giovagnoli, Bracciatelli e Trillini. In pieno recupero arriva il sigillo del 5-1 Biancoverde grazie al neo entrato Dosa, esterno offensivo classe 2000. Tre punti importanti per l'Avezzano che annulla la penalizzazione e si porta a quota zero. Il vero campionato dei Biancoverdi inizia da oggi. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Mister, siete stati in partita per i primi 45 minuti, poi nel secondo tempo è arrivata una punizione durissima per il Castelfidardo. Secondo me punizione durissima e insomma nelle dimensioni non ci sta assolutamente perché secondo me noi abbiamo fatto un'ottima partita. Al primo tempo siamo stati insomma aggressivi e abbiamo messo secondo me in difficoltà l'Avezzano e non abbiamo sofferto minimamente contro una squadra che sappiamo che fa del gioco insomma la sua arma migliore. Qui a Avezzano crea sempre tante occasioni. Io non ho visto tutte queste occasioni a parte il finale e poi quando chiaramente gli equilibri sono saltati. E noi abbiamo fatto bene, la differenza l'ha fatta tre gol con tiri da 30 metri. Quindi chiaramente questo ha indirizzato la partita su certi binari e su certe dimensioni ma a livello di prestazione secondo me da parte nostra è stata un'ottima prestazione. Ripeto, però dispiace perché ci ritroviamo a parlare di cinque gol subiti senza aver particolarmente sofferto. La realtà è questa, non è che abbiamo contro una squadra che ha grandissima qualità ma la differenza l'ha fatta a tre tiri da 30 metri dove abbiamo preso tre gol. Tutto qua. La formazione iniziale senza Grazioso e D'Ercole un po' tra i migliori di Giulianova è stata addettata anche dalla scelta di applicare il turnover? E' stata applicata perché D'Ercole aveva preso una botta e poi insomma partendo insomma noi col 3-5-2 D'Ercole in giocatura offensivo voleva avere comunque sia un cambio davanti cosa che Giulianova non avevamo e era in cambio in più. Poi le tre partite la stessa cosa vale per Grazioso. Bracciatelli insomma il ragazzo che quando aveva giocato aveva fatto bene e se non ruotiamo nemmeno quando ci sono tre partite poi non faremo mai minimo di turnover. Quindi è stato ripeto ma la squadra torno a dire a me il primo tempo è piaciuta, ha iniziato la pariata con l'atteggiamento giusto mettendo in difficoltà l'Avezzano ripartendo bene purtroppo poi diciamo anche il gol del 2-1 al secondo tempo insomma un altro tiro da fuori come il primo ha messo la partita insomma su certi binari non dovevamo prendere magari il terzo gol, era un gol insomma da evitare, il quinto lì aveva ammollato però torno a dire la differenza sostanziale l'ha fatta tre tiri da lontanissimo dove lì diventa difficile non consentire ripeto nemmeno conclusioni da 30 metri purtroppo però con tre tiri da 30 metri ci hanno fatto tre gol. La realtà è questa. Domenica arriva a Castelfilardo Lagnonese, partita fondamentale a questo punto anche se siamo insomma solo alla quarta giornata possibilità di recuperare gli infortunati Ino e Severini? Il recuperare è relativo, speriamo di recuperarli ma anche se li recuperiamo chiaramente non possono giocare 90 minuti quindi speriamo di recuperarli per uno spezzone di partita però secondo me sono dei partiti fondamentali ce ne saranno tante e Domenica è una prima importante ma come tante altre ma non nulla di più ripeto il tempionato è talmente lungo che succederà di tutto e di più però chiaramente dispiace perché io ripeto oggi ho visto una prestazione anche migliore rispetto a Giulianova e Giulianova sono stati fortunati perché abbiamo preso insomma un gol visto e rivisto purtroppo il rigore che assolutamente non c'era però avremmo avuto tre punti invece di uno oggi la prestazione secondo me c'è stata e ripeto stiamo qui ed è anche difficile insomma commentare una partita finita 5-1 ma dove secondo me non c'è assolutamente questo scarto Immagina i dettagli della tua casa ideale, colori, forme, materiali Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parchi e buiserie Porte Garofoli, la scelta per la tua casa